Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Jovix04 ragazzi e oggi vi do i ben ritornati qui su Five Nights at Freddy's Plus Signori, dobbiamo fare la notte 3 e la notte numero 4, non vedo davvero l'ora di iniziare e quindi detto questo ragazzi, iniziamo subito Ma ci risiamo, ci risiamo, dobbiamo trovare i nostri amici, eccolo qua, eccolo qua, già uno l'abbiamo trovato, perfetto, perfetto, vediamo, vediamo C'è qualcun altro che si vuole unire alla nostra festa? Che bella festa, dai, 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 vi dovete unire tutti quanti, forza amici miei Attenzione, attenzione, olè, fatta la prima task, Jovix04 fortissimo ragazzi Siamo ritornati qui in questo bell'ufficio, Scott Coton, non parlare perché devo parlare io, porca miseria, io devo parlare, non tu Allora, qua vedo che c'è una bella password, i nostri amici qui devono essere tutti calmi Dicevo, devono essere tutti calmi, eh, tranne per uno, tranne per uno, e sappiamo il motivo Allora, voglio un contratt... So che i contratti a lei non gli piacciono, eh, lo so, lo so, lo so benissimo che ha questo disguido Ho capito, ho capito, non le parlo più di contratti, d'accordo, non le parlo più di contratti Stessa cosa vale per i nostri amici, ok? Basta contratti, stop, la smetto, la smetto, ok? Non parliamo di contratti, perché i contratti a quanto pare non funzionano mai, d'accordo? Allora, è luna di notte, Foxy è già pronto carico a venirmi addosso Io questo non lo vorrei, di sicuro, proprio no, 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 nessuno mi deve attaccar Attaccar soprattutto un pirata, e tu che ci fai qui? E tu che ci fai qui? E mamma mia, eh ragazzi, no, nulla, nulla, tutto un casino, è tutto un casino Un attimo di calma, porca Bonny, un attimo di calma, ok? Perché tu sei troppo agitato, amico mio Vuoi per caso qualche cavumilla? Insomma, ti vedo un po' tremante, sai? Magari t'hanno fatto arrabbiare, non lo so Però aspetta un attimo, Bonny, devo vedermi anche di qua, eh? Non vorrei che Cica, la signorella, mi faccia qualcosa di bello Allora, io devo passare qui, non si sa mai Non vorrei che il signor Bonny, sa, da un momento all'altro mi potrebbe attaccare Allora, tu stai fermo lì Lo sapevo, lo sapevo ragazzi, ma quanto lo sapevo io che dovevo passare lì Allora, devo vedere la signorella Cica Devo vedere la signorella Cica Signorella Cica, d'accordo, d'accordo, perfetto Allora, adesso dovrebbe essere arrivato il signor Bonny E lo sapevo, e lo sapevo che arrivavi, eh? E lo sapevo, ma quanto lo sapevo? Quanto? Eh, 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 t'ho predictato, amico mio, t'ho predictato Io quella porta tanto non la apro Vediamo Foxy Allora ragazzi Mi tocca aprirla per forza Facciamo questo movimento qui La signorella Cica, non so come si è messa Allora Foxy, tu rimani lì, per l'amor del Dio Non so che cosa sia stato quel rumore, però ragazzi Ok, 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 ok Ok, non lo voglio più sapere Non lo voglio più sapere, signori, che cos'era quel rumore Allora Bonny Io avrei un contratto da dirle Se lei se ne va Le offro 10.000 euro Ho capito che ho detto prima basta contratti Ecco, hai visto 10.000 euro Fanno bene a tutti, direi Eh Allora Sono le tre di notte Quindi non mi attaccate Per piacere Non mi attaccate Allora ragazzi Facciamolo venire Eccolo Lui arriva Ma tanto trova chiuso Eh Eh, eh, eh Che cosa voleva fare? Che cosa voleva fare, signor Foxy? Che tanto non lo può fare Eh, eh, eh Invece Cica, ragazzi La cosa che mi preoccupa di più è Cica Che non so dove minimamente Si è andata Cica, fatti vedere Cica Ti sto spettendo Eh, eh, eh Dai, dai, dai Cica, forza, forza Non mi far preoccupare Cica Perché tu mi devi far preoccupare Cica? Allora Io apro qua Tanto mi sembra che sia Per il momento tranquillo Allora Ho fatto benissimo Allora, signor Foxy Ok, ragazzi Cerchiamo di resistere La situazione non sta andando così male Quindi mi sa che ce la possiamo fare Se ce la giochiamo bene Allora Un attimo di calma Ho il 26% della power Sono le 4 di notte Troppo le 5 Troppo le 5 Dai, ragazzi Dai Cica 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 Amica mia Guarda che un bello sguardo lì Guarda che un bello sguardo che hai, eh Dovresti esserne fiero Ma tanto io non apro Tanto io non apro Eh Aspetto le 6, ragazzi Io aspetto le 6 Cosa devo fare? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Non lo so Cosa devo fare? Non lo so No, ragazzi Io non mi giro Io lo dico Non mi Erano le 5 Erano le 5 Non ci credo Allora Ci riproviamo, signori Ci riproviamo E sapete anche perché ci riproviamo? Perché, ragazzi Mi è venuto in mente Forse qualche codice segreto Che potrebbe funzionare, ragazzi E vediamo un attimino Se funziona Quello che penso Io ho pensato una cosa Ma non è che se scrivo qua 1987 Succede qualcosa? 1987 No Non è successo nulla Dai, 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 dai Forza, forza Fatevi vedere Su Fatevi vedere Bene Cica, sei fatta vedere Cica, sei fatta vedere, signori Cica, sei fatta vedere Bravissima signorina Cica D'accordo Bravo, bravo, bravo Ora ritornatene Da dove sei venuta Bravissima, cica Così ti voglio Vedi? Così sei brava Così siete tutti bravi Fate vedere Vedete? Così si deve giocare Cordialmente Soprattutto Anche per un signorino Qui Eee Vale Soprattutto per un signorino Qui, vale Come ho detto Adesso io chiudo, ragazzi Io chiudo Salve, arrivederci Ciao, ciao È stato bello È stato bello Sai È stato bello Molto bello Molto bello Bello e grazioso Allora Soprattutto anche per un signorino Non apro, eh Soprattutto anche per un altro Non apro io Cioè Mi sembra ovvio Che non aprivo per lui, eh Non aprivo comunque A nessuno, eh Quindi Allora Apriamo un secondino di nuovo Bene Ce ne sono andati tutti? Sì Allora Io sento una music box Un po' particolare Quindi è meglio un attimo Se sto allerta Bonni Dove sei andato? No ragazzi Bonni No ragazzi Bonni Devo controllare No ragazzi Bonni Non so dove Cavolo Si è andato Quello lì Bonni Bonni Fatti vedere Ti prego Bonni Fatti vedere Ti prego Anche tu Cica No ragazzi Qua c'è freddo Ok Ok Bonni È ritornato lì Ma ragazzi Cica Cica Ti prego Non mi fare scherzi D'accordo Signorina Cica Allora Signorina Cica Secondo me Doveva chiuso un attimo Per questioni un po' Ovvie Quindi Chiudiamo un attimino Bene Tanto Freddy Sta sicuro Che io non l'apro La rimando indietro Eh La rimando indietro Da dove è venuta Io già io lo dico Ah fammi controllare un attimino Qua Il signorello Bello eh Che tutti conosciamo Con un nome È chiamato Bonni Ragazzi Non so Che cosa sia stato Quel rumore Ma io non apro La fare Io Non aprivo comunque Non ti aprivo comunque Cica Te lo scordi Ma te lo scordi Allora Io non so dove sia andato Bonni Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Non finire adesso Non 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 dovete arrivare tutti adesso Non dovete arrivare tutti adesso Dai che manca pochissimo ragazzi Dai 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 Forse che sono le sei Sì 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 Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ho superato questa notte Andate a casa Andate a casa Animatronics Andate a casa Ce l'ho fatta GeoX04 vince anche questa Va bene ragazzi Io dico che questo video Si può concludere qui È stato davvero divertentissimo Giocare a FNAF Plus E detto questo Noi ragazzi Ci vediamo Ad un prossimo Video Ciao